Noi ci incontriamo per la presentazione del quinto torneo giovanile Maurizio Mosca che è stato mio compagno maestro per 26 anni di lavoro e di vita, mio compagno professionale è un uomo dal quale ho imparato, abbiamo condiviso una passione viscerale per il calcio e per lo sport in generale, per l'ironia, per la capacità di essere felici per la felicità e la gioia di dividere questo sport con i ragazzi questo torneo che è appunto già la quinta edizione è riservato alle squadre giovanili milanesi e io dico che siccome è il calcio milanesi in generale che deve ritirarsi su siccome sta passando in mani straniere più o meno affidabili penso che prima di mettere il naso fuori si possa ricominciare a girare in provincia Milano che è qualcosa di buono sicuramente si trova, magari anche per i dirigenti perché Milano è una città laboriosa che ha delle persone che hanno fatto la storia economica di questo paese e non è forse necessario andare fino in Thailandia o dall'altra parte del mondo per trovare queste risorse grazie Luca